Ed ora torniamo a parlare di ambiente, riportare vita ed equilibrio nelle valli del Mincio con un progetto da oltre 1 milione e 240 mila euro. Istituzioni mantovane, enti ed istituti di ricerca lanciano un appello riferito al progetto che andranno a presentare che si candida all'ottenimento di fondi europei. Nicola Facchini. Dieci mosse per riportare vita ed equilibrio nella zona umida di importanza internazionale delle valli del Mincio. Il progetto da oltre 1 milione e 240 mila euro che si candida ai fondi europei Life 2012 Natura e Biodiversità vede la sinergia tra comune e provincia di Mantova, Parco del Mincio, Aipo, Politecnico di Milano, Università di Parma e lo studio scientifico Telò con il preciso obiettivo di ripristinare e proteggere habitat e specie nelle valli del Mincio. Un'azione volta a migliorare e proprio far sì che il territorio, il lago possa da questo progetto trovare un'azione comune per uno sviluppo ambientale, turistico e soprattutto di rispetto del paesaggio. Se sarà approvato il progetto che avrà un cofinanziamento dell'Unione Europea di circa il 50%, quasi 618 mila euro, si avvierà il primo luglio del 2013 e si concluderà il 30 settembre del 2015. Il grosso delle azioni è ovviamente contenuto nella seconda attività, nel secondo gruppo di attività che sono le azioni concrete che partiranno dopo due o tre mesi dall'attivazione del progetto nella sua interezza. Tra le azioni concrete ricordiamo la riattivazione della circolazione idrica nei canali delle valli, l'inserimento di specie vegetali e animali autoctone, opere di tutela e salvaguardia delle sponde dei laghi di mezzo e inferiore. È interessante l'operazione che si va a fare, ma se non utilizziamo una salvaguardia da chi immette sostanze tossiche e sostanze inquinanti, non risolviamo il problema. I problemi affrontati saranno la carenza idrica, l'assenza di gestione del reticolo idrico delle valli, presenza di piante infestanti e pesci all'octoni ed erosione delle sponde. I consigli di amministrazione